Piazza della Libertà Salerno Piazza della Libertà Salerno Piazza del Piazza Piazza del Piazza Piazza del Piazza Piazza del Piazza E' un modo per sensibilizzare, diciamo, nei tempi della ricetta, portando un piccolo contributo alla fine del regalo si fa sempre alla mamma o alla moglie e quindi approfittiamo. Poi oggi c'era anche pedalando per la città, quindi abbiamo partecipato a una maglietta anche con il piccolino e quindi abbiamo approfittato, i punti vendita sono stati strategici. Grazie e buona domenica, buona domenica, augura a tutte le mamme. Grazie. Buona domenica, buona domenica, buona domenica. 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 domenica. Buona domenica. 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 Grazie per la visione!